Oggi ragazzi vi dirò se, secondo me, per chi va in bici, fa bene allenarsi anche in palestra e andare a correre a piedi. Iniziamo! Si vede sempre più spesso, specialmente guardando al mondo dei pro, di, appunto, atleti professionisti che fanno molta palestra e anche corrono molto a piedi. Caso proprio di questi giorni che uno dei gemelli Yates ha appena portato a termine una maratona, adesso a novembre, correndola anche molto forte, infatti ha portato un tempo inferiore alle tre ore, quindi si parla di poco più di 4 km che per un'intera maratona è un tempo, ragazzi, veramente non male. Altri esempi, ragazzi, possono essere quello di Van Aert, che si allena, appunto, a piedi regolarmente, o anche Pitcock, che anche l'anno scorso aveva mostrato dei tempi molto interessanti su corse anche di 10 km. La palestra, invece, è un discorso ormai più assodato, più radicato, appunto, nel ciclismo, infatti da qualche anno già si vedono professionisti che fanno palestra, anche abbastanza regolarmente, con anche sovraccarichi elevati, fanno esercizi di core stability e quant'altro. Ma ragazzi, arriviamo al punto. Fa bene integrare, appunto, l'allenamento in bici con l'allenamento in palestra e con la corsa a piedi? Vi dico subito che non c'è una risposta ben precisa, ma c'è una risposta, appunto, che va interpretata in base a chi si allena, ma anche in base al tempo che si riesce a dedicare a queste due attività. Mi spiego meglio. Ragazzi, è fondamentale andare in palestra se si vuole migliorare la propria performance sulla bici. È fondamentale farlo, però, se si ha, prima di tutto, molto tempo a disposizione, che quindi già si pedala molto, si va molto in bici e si ha tempo, appunto, anche per fare un'attività alternativa, come può essere, appunto, l'allenamento in palestra. Ha senso farlo anche se questo allenamento in palestra si porta avanti per tutto l'anno. Infatti è pieno di persone che mi chiedono, ma anche che vedo, di gente che conosco, che fa palestra a novembre, forse anche a dicembre, anche due o tre volte a settimana, magari, regolarmente, però poi dopo dicembre scade l'abbonamento in palestra. Non si va più in palestra e si pensa che comunque quella palestra fatta per due mesi ci possa portare benefici per tutta la stagione. Invece, ragazzi, non è niente di più sbagliato. Infatti, in palestra ci si va per allenare la forza, forza massima, forza esplosiva. Se quella forza, poi, non viene allenata durante tutto l'anno, magari con dei richiami, una volta a settimana, due volte a settimana, quella forza inevitabilmente e fisiologicamente decade, perché la forza è una capacità condizionale che, se non va allenata, diciamo, con frequenza, inevitabilmente decade. Quindi, se facciamo palestra solo a novembre e dicembre, poi ci ritroviamo a febbraio, marzo, aprile, quando ricomincia la stagione e quindi bisogna spingere sui pedali, che quei lavori di forza fatti in palestra sono praticamente vazi a nulla. E quindi, ragazzi, è importante fare palestra se però, sì, facciamo maggiormente, o meglio, facciamo più sedute durante la settimana nel periodo invernale di rinizio della preparazione, però poi un richiamo o anche due a settimana vanno portati per tutto l'anno. Se noi già sappiamo che non faremo così, ovvero che abbiamo poco tempo e quindi poi, quando c'è la bella stagione, primavera, estate, sicuramente non andremo in palestra, allora il mio consiglio è risparmiatevi quell'abbonamento di due mesi a fine anno, non lo fate proprio, che è meglio a quel punto non andarci in palestra. Pedalate e basta e vedete che non vi cambierà assolutamente nulla. Poi un altro discorso, ragazzi, è anche che cosa fare in palestra. Infatti, se andiamo lì, ci affidiamo al personal trainer di turno, che ci fa una scheda come se dovessimo poi diventare deculturisti, è veramente inutile. In palestra bisogna fare esercizi incentrati al ciclismo, a quella che è la nostra disciplina. Ad esempio, bisogna allenare la forza massima e forza esplosiva, che è una tipologia, diciamo, di forza, che non si riesce ad allenare in bici, o meglio è molto difficile, quindi bisogna concentrarsi su quello. Bisogna cercare di aumentare la nostra forza, però concentrandosi sulla componente neuromuscolare della forza e non sulla sezione trasversa del muscolo, perché infatti la forza è data sia dalla grandezza del muscolo che dalla componente neuromuscolare. Noi bisogna, appunto, concentrarsi meglio su quest'ultima, perché fare ingrandire il muscolo, aumentare di peso al ciclista proprio non è una cosa che fa bene. Quindi per concentrarsi su questo aspetto bisogna fare le giuste ripetute, i giusti carichi, le giuste serie, quindi bisogna affidarsi ad una persona appunto che sa di cosa si parla e non al personal trainer di turno. Altro discorso, ragazzi, è quello che si può fare della corsa, ma anche qui, diciamo, il ragionamento è simile. Infatti, sì, fa bene correre a piedi per chi va in bici. Anch'io, due anni fa, tre anni fa, avevo provato a correre a piedi, anche con buoni risultati. Ero riuscito a fare una mezza a poco più di 4 al chilometro e, effettivamente, anche in bici poi mi dava appunto dei benefici, perché, praticamente, quando mi allenavo a piedi, comunque, anche se mi allenavo meno in bici, riuscivo lo stesso a rendere come se mi fosse allenato di più anche in bici. Però, ragazzi, anche nella corsa è fondamentale il discorso che faccio per la palestra, che è inutile farlo per uno o due mesi adesso e poi abbandonarla per tutto l'anno. Anche perché la corsa, ragazzi, è uno sport molto traumatico e molto difficile da apprendere. Nel senso, siamo tutti capaci a correre, ma un conto è correre per 100-200 metri, un conto poi allenarsi per vari chilometri per avere poi benefici per quando si va in bici. Quindi, se uno vuole iniziare a correre e ad integrare appunto l'allenamento a piedi con quello in bici, è opportuno, sì, iniziare piano, ma dedicargli appunto molto tempo. È inutile vedere quei programmi in cui la corsa è scritta una volta a settimana una corsa di 7-8 chilometri per un mese o due mesi, ma è veramente inutile perché una volta a settimana per così pochi chilometri non ci darà mai la possibilità di adattarsi alla corsa nel giusto tempo per poi ottenerne dei benefici perché appunto poi quando è ora di smetterla è proprio lì che iniziamo a carburare e quindi fino a lì abbiamo praticamente buttato un'ora della nostra settimana per fare una cosa che poi non ci porta nessun beneficio. Se vogliamo iniziare a correre bisogna farlo subito, appena diciamo rinizio il periodo di preparazione, farlo per più di una volta a settimana, partire lenti, ma poi appunto progredire e non abbandonarla subito quando poi si rinizia a fare tutto serio in bici perché a quel punto diventerebbe appunto, non si farebbe in tempo ad adattarsi alla corsa e quindi ripeto sarebbe stato piuttosto inutile. Infatti anche i professionisti, quelli che si dedicano alla corsa, sono in poche a farlo ma ci si dedicano tutto l'anno, almeno una volta a settimana, poi lo fanno per tutto l'arco della stagione. Questo discorso ovviamente vale per chi si allena in bici e vuole migliorare, vuole avere un beneficio maggiore rispetto a se andasse solo in bici, quindi palestra e corsa sono allenamenti complementari che possono affiancarsi benissimo all'attività in bici, però per chi appunto vuole dei miglioramenti, quello che vi ho detto finora secondo me è una linea guida da seguire. Poi, chi va in bici tanto per e non gli interessa la prestazione, gli interessa il risultato, vuole soltanto andare in palestra, andare a correre a piedi per fare qualcosa di alternativo e non gli interessa se poi avrà effettivi benefici sulla pedalata, allora in quel caso potete fare quello che volete, potete andare in palestra anche un giorno a settimana per un mese, correre una settimana sì, una settimana no, in quel caso ovviamente tutto questo discorso non conta più nulla. Però se volete fare le cose per bene, queste secondo me sono le linee guida da seguire, ve lo dico sia come persona, uomo, ragazzo, laureato in scienze motoriche, quindi sa di cosa parla e ve lo dico anche perché l'ho provato sulla mia pelle, sia la corsa che la palestra, e quindi sono più che sicuro di quello che vi dico. Adesso ragazzi è arrivato il momento di salutarci, fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra esperienza, cosa ne pensate di quello che vi ho detto, se condividete il mio pensiero o no. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a mettere un bel like, iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao! Ciao!